Siamo all'interno della cosiddetta sala rossa della collezione Cagnola, dove presentiamo questa mostra, il fascino dell'antico, nelle placchette in bronzo della collezione Cagnola. Stiamo parlando sostanzialmente di piccoli rilievi in bronzo, piccoli bassorilievi in bronzo, le dimensioni sono dell'ordine di qualche centimetro, sono di forma rettangolare o circolare, più raramente quadrate, il termine placchette è invalso nell'uso del collezionismo dell'antiquariato, si chiamano così in tedesco, in francese, in inglese e quindi anche in italiano. Guido Cagnola, perché siamo sicuri che era lui il collezionista di placchette, possiede una collezione di buon livello, non tanto numericamente e quantitativamente, ma qualitativamente, sono circa una cinquattina di placchette. Noi abbiamo scelto espressamente 8 placchette di argomento classico, quindi placchette che raffigurano scene, episodi che sono in qualche modo collegabili a letteratura classica, quindi alle Neide, Tito Livio e altri autori. Sono placchette databili tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, quindi sono le più antiche in assoluto all'interno della collezione Cagnola, ci sembrava giusto partire da quelle più antiche e datate. Tra l'altro le placchette fino ad oggi non erano visibili all'interno della collezione e quindi dal dopomostra sarà possibile ammirarne alcune in pianta stabile nella collezione. Trovo alle spalle questa cornice che è abbastanza curiosa, perché questo è un modo che Guido Cagnola aveva scelto per incorniciare la sua collezione di placchette, quindi le placchette di Guido Cagnola non sono oggetti isolati, ma sono tutte contenute all'interno di cornici e il criterio con il quale inserisce un certo numero di placchette all'interno di una cornice che è puramente casuale, non c'è un tema specifico. Il genere placchette si sono cimentati autori del calibro di Donatello, del Filarete, sono state prodotte sia nell'ambito della scultura, della piccola scultura o micro scultura, ma molte volte la produzione di placchette e rapannaggio degli orefici, perché sono degli oggetti estremamente curati, estremamente rifiniti anche da un punto di vista proprio del dettaglio, quindi prescindendo dai contenuti, proprio come oggetto sono in genere fatti molto bene. Sono oggetti seriali, quindi sono paragonabili forse tra i tanti media alla stampa, alle incisioni, perché era un modo per veicolare immagini. Il tema della diffusione delle immagini attraverso le placchette è centrale, perché le placchette vengono spesso utilizzate proprio per diffondere stili, scene, riferimenti di vario genere. Questo è un tema che cerchiamo di sviluppare anche all'interno della mostra, spesso le placchette vengono utilizzate poi per decorare architetture e altri generi più alti. Le placchette suscitano enormi passioni a livello internazionale e enormi interessi da parte naturalmente di quelli che lo frequentano, quindi sulla singola placchetta, sulla sua rarità, sul suo significato, sul suo contenuto, su che cosa rappresenta, ci sono discussioni che vanno avanti per anni e visto che spesso queste placchette rappresentano dei soggetti allegorici, non immediatamente comprensibili, tante volte nascondono anche dei messaggi, degli emblemi, c'è tutta una simbologia legata alle placchette, quindi tante volte la scena rappresentata non vuole significare soltanto quello che rappresenta ma nasconde dei significati. Questa in particolare raffigura Vulcano che sta lavorando su un incudine, Mercurio e uno stranissimo soggetto, una donna nuda, alata, che secondo alcuni può rappresentare la fama o la vittoria, secondo altri potrebbe rappresentare un rarissimo esempio di Venere alata. Questa è stata abbastanza interessante studiarla, perché ci ha messo a contatto con un tema che cercheremo di trattare magari in qualche evento con la terra alla mostra, il tema della fucina di Vulcano che ricorre spessissimo nei classici, nell'Iliade, nell'Odissea e in tanti altri testi e sempre con delle connotazioni abbastanza particolari. Quindi adesso è un po' difficile riassomere in poche parole, ma spesso il concetto generico di fucina di Vulcano, delle declinazioni che tante volte vengono interpretate in modo singolare da parte di chi si trova ad affrontare non soltanto il tema della placchetta, ma lo stesso soggetto all'interno di altre arti, come ad esempio la pittura. Una delle domande che più facilmente vengono fatte da chi non si occupa specificatamente di placchette, diciamo che non se ne è mai interessato fino ad ora, è un po' la funzione che questi oggetti avevano nell'epoca in cui sono stati prodotti, quindi tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, inizialmente poi le placchette vengono prodotte per altri due secoli almeno. Nel Rinascimento le placchette vengono utilizzate sostanzialmente come decorazione di armi, di oggetti di vestiario, vengono anche impiegate anche se non direttamente, ma attraverso delle impronte nella decorazione delle rilegature dei libri. Vediamo qui un altro impiego, anche se in realtà questo è un oggetto che appartiene alla collezione Cagnola, ma non costituisce parte integrante della mostra, possono essere utilizzate anche come dei dettagli per decorare i cassetti di uno stipo monetiere. Per ironia della sorte, questi stipi che hanno un'origine rinascimentale, sono proprio quei mobili all'interno dei quali le placchette, così come altri oggetti d'arte trovavano una loro collocazione. Grazie 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 Grazie